Questo è il Donbass, diciamo. Queste sono le due repubbliche riconosciute da Putin, sostanzialmente, che sono russofone. Quindi già qui l'Ucraina non batteva chiodo da otto anni, sostanzialmente. E per Roma rimane comunque territorio ucraino. Assolutamente, quindi dal punto di vista del diritto internazionale c'è stato un atto totalmente in debito a parte russa. Benissimo. Questa è la zona del Donbass. Se quando dice Stefania Battistini, sostanzialmente qui si stanno sparando gli uni e gli altri. Esattamente. Bene. Con quale scopo per ora qui? Niente, perché nessuno avanza, nessuno retrocede. Allora, nell'ipotesi di un conflitto generalizzato, dato che la stragrande maggioranza dell'esercito ucraino è a est, cioè fronteggia davanti al Donbass, e quello che si ritiene molto verosimilmente nell'ipotesi di un'operazione militare complessa è che i russi vogliano tenere fermo l'esercito ucraino, quello che militarmente si chiama il fixing, fermarlo, attraverso l'utilizzo dell'artiglieria. Quindi c'è colpi di artiglieria, obici, razzi non guidati, le famose catiusce. E questo permetterebbe all'esercito ucraino di rimanere sul chi va là e di rimanere in questa zona. Lasciando scoperta questa parte. Lasciando scoperta il centro di gravità, cioè la capitale. Ma lei crede realmente che Putin possa fare questa mossa? Io credo che i russi non abbiano un piano, ma ne abbiano almeno una dozzina, perché la strategia militare russa è sull'opportunità e non sul piano predefinito. Certamente loro devono togliere dalla Costituzione il desiderio di entrare nella Nato, il volere di entrare nella Nato e nell'Unione Europea. Solo una classe dirigente diversa. Non sono cose diverse però, perché l'Unione Europea, quando è venuto l'ambasciatore ha detto che se l'Ucraina entra nell'Unione Europea non gli riporta niente. Allora, teniamoci il desiderio di entrare nell'Alleanza Atlantica. Solo una classe dirigente alternativa a quella attuale è in grado di farlo. E' solo un'operazione. In questo momento i russi hanno mosso tutto quello che hanno. Hanno portato le truppe addirittura dalla Kamciakka. E tutto il meglio che hanno è qui. E non può starci in maniera eterna. Per la semplice ragione che i mezzi si deteriorano. Quindi lei crede a un colpo di Stato? Io credo alla possibilità di una spallata supportata da un'operazione militare. Che può svolgersi o dalla Bielorussia e dai Marines russi e dalle forze parodotiste su Odessa. Cioè? Tagliando completamente fuori l'esercito. Un attacco quindi su Kiev e un attacco su Odessa. Su Odessa con le forze da sbarco e con i parodotisti e su Kiev con le forze pesanti. Grazie a tutti.